Ciao, buonasera, va bene, ben arrivato intanto, con questi colori come ti trovi? Molto bene, molto contento. Non ti faccio una domanda scontata perché sarebbe facile, ti chiedo invece come va questi primi giorni di Fiorentina, come va il ritiro e se ti piace anche questo metodo di allenamento con molta palla. No, no, io sono molto contento di essere arrivato qui, adesso è un po' strano, mi sa, anche per la gente vedermi perché per tanti anni magari mi hanno visto da avversario, adesso io spero solo di farmi apprezzare anche con questa maglia perché sono qui, sono felice di essere qui, spero di essere giudicato da più in avanti per quello che faccio. Andasi lì!